In questa puntata di Vivere in Salute, il convegno promosso dalla Fondazione Tonolli dedicato alla prevenzione cardiovascolare che si è tenuto al chiostro di Intra. Poi spazio a un progetto di prevenzione dell'abuso di alcol e degli incidenti stradali collegati che ha fatto tappa all'Ipercop di Gravelona Toce. Infine la presentazione dell'iniziativa della nostra azienda sanitaria in occasione della giornata mondiale per la prevenzione delle malattie tiroidee. La prevenzione cardiovascolare oggi nel giovane, nella donna, nell'anziano è il titolo del convegno promosso a Verbagna dalla Fondazione Tonolli con il patrocinio dell'Ordine dei Medici, dell'ASL-VCO e dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Hanno partecipato anche diversi giovani. Perché la scelta di un momento di approfondimento dedicato a queste tre categorie di persone? Perché sono le fasce più deboli. La Fondazione cura questo aspetto della prevenzione da sempre e quest'anno in modo particolare perché era un tema al quale era molto legata la fondatrice Livia Tonolli. E' quest'anno che ricorda questa figura di donna eccezionale come donna della scienza e dall'impegno civile, dall'impegno morale. E quindi quest'anno, come dire, dedichiamo a lei questa iniziativa. La prevenzione è importante non tanto perché comporta anche problemi di carattere economico. Vuol dire fare i conti con le malattie già sviluppate e quindi curarle e quindi essere impegnati molto di più sul piano economico. Quindi prevenire vuol dire anche risparmiare. Ma la necessità anche di affrontare questo tema è perché la genetica ha rivoluzionato tutta la medicina e anche la prevenzione. Se si pensa per esempio soltanto che ci sono dei geni che sono come dei marcheri che ci dicono che quella persona è esposta al rischio di un arresto cardiaco al punto che in questi pazienti viene applicato un defibrillatore proprio preventivo per prevenire la morte improvvisa. Questo è solo uno dei tantissimi esempi. Perché la nascita di questa ONU? Siccome la vostra attività si inserisce nell'attività preventiva della quale si parla quest'oggi? Sì, la fondazione madre si occupa essenzialmente di cardiologia e di formazione nei confronti dei giovani medici soprattutto nell'ambito cardiologico. Però vicino a questo ci siamo mossi anche nella direzione che riguarda la prevenzione di alcune situazioni molto importanti e che rappresentano anche degli elementi di fragilità come possono essere i bambini, i minori in senso generale, la donna in alcune fasi della vita e soprattutto il grande problema attuale è quello delle persone anziane quindi con le malattie degenerative che incombono. E quindi l'obiettivo della ONU è proprio quello di sviluppare questo aspetto di tipo preventivo e di tipo senza dubbio anche importante dal punto di vista sociale. Sottolineato nel corso della mattinata come le patologie cardiovascolari e la loro prevenzione siano una questione che sempre più tocca all'universo femminile. Il problema fondamentale che sta venendo fuori adesso che si parla tanto di patologie di genere è che quello che si credeva che fosse un campo esclusivamente di pertinenza maschile invece sta interessando sempre più la donna. Un po' perché l'invecchiamento interessa maggiormente alla donna ma soprattutto anche perché la donna si sta avvicinando a quelle che sono le cattive abitudini degli uomini. Quindi i fattori di rischio che valevano soltanto per gli uomini adesso valgono anche sulla donna soprattutto dopo che la donna perde la sua capacità di protezione data dagli estrogeni. Quando con l'inizio della menopausa manca questa barriera protettiva i fattori di rischio diventano sempre più pesanti e quindi la miglior cosa è la prevenzione prima che i guai comincino e si cerca poi di rappezzarli. Parlando di chi ha i capelli bianchi invece la prevenzione nell'anziano ha senso? Secondo me sicuramente sì ha un senso. La vita media si è allungata molto nella nostra società. 78 anni per gli uomini e 84 quasi per le donne. Quindi le nostre popolazioni saranno già adesso in futuro sempre più anziane. Quindi oltre le cure in questa popolazione anche la prevenzione ha sicuramente un senso anzi forse sarà un fatto ancora più importante. Quello che va definito è se le strategie che noi adesso mettiamo in campo per le popolazioni più giovani siano idonee a questa popolazione che sono una popolazione più delicata, più fragile in cui anche maneggiare i farmaci deve essere fatto con molta attenzione. Quali sono oggi le principali strategie preventive che vengono messe in campo dall'azienda sanitaria? Sono molte. Una diffusione della cultura cardiologica, gli stili di vita, una corretta alimentazione, l'abolizione del fumo, l'attività fisica sono fattori fondamentali. E poi scopo principale dell'azienda ma di noi medici è il trattamento dell'ipertensione ed è lì per colesterolemia che risulta essere molto importante soprattutto in questi pazienti. Ancora si è parlato di prevenzione dell'invecchiamento sensoriale e cognitivo con la dottoressa Casco dell'Università di Padova che da anni si occupa di riabilitazione e trattamento del disturbo visivo sia nei normovedenti che negli ipovedenti. Nei normovedenti nella periferia del campo visivo per aumentare le funzioni della visione periferica che per esempio è implicata nella lettura e alla stessa maniera negli ipovedenti. Se lei pensa per esempio durante l'invecchiamento molte persone soffrono di degenerazione maculare e questo ovviamente comporta per loro acquisire nella periferia del campo visivo le funzioni che normalmente noi usiamo con la fovea per la lettura, per l'analisi dell'informazione visiva nei dettagli eccetera eccetera e quindi ha delle grosse potenzialità. Oggi parliamo di prevenzione. Quanto hanno senso questi temi, soprattutto in malattie così importanti, tra i giovani? Guardi, io chiaramente posso dare una risposta come filosofo e la più bella definizione di filosofia l'ho sentita da una donna, tra le tante che sono state date, ed è di Edith Stein, guardare il mondo con gli occhi spalancati. Quindi dobbiamo di nuovo imparare a stupirci, a meravigliarci. In particolar modo se ci riferiamo ai giovani dobbiamo tenere bene a mente il problema di fondo che la crisi che attraversa l'uomo contemporaneo, come ha mostrato molto bene Constantin Noica, è una crisi spirituale, cioè che investe le nostre produzioni di senso. Dobbiamo rifornire ai giovani degli scenari da abitare, dobbiamo fornire loro di nuovo dei valori, il coraggio, la magnanimità, la prudenza, la temperanza. Chi lo deve fare? La famiglia, la scuola? L'umanità adulta lo deve fare, l'umanità adulta deve aiutare i giovani a diventare adulti. C'è una bellissima espressione di Kant che dice sabere aude, abbi il coraggio di servirti del tuo sapere, abbi il coraggio di servirti della tua conoscenza. Se c'è qualcuno che pensa per te, vivrai sempre in uno stato di minorità, dobbiamo abituare i giovani a non vivere più in uno stato di minorità, la scuola, la famiglia, fare una sorta di consorzio umano, una sorta di solidarietà umana per far sì che il loro futuro non sia più visto come una minaccia ma come uno spazio da abitare. Secondo la sua esperienza i ragazzi hanno voglia di ascoltare? Guardi, i ragazzi li può intercettare sulla poesia e sui grandi temi dell'esistenza. Se li va a toccare su queste corde che sono corde universali, li guadagna per sempre. Il progetto è sicuro alla notte, promosso dall'ASL del VCO, ha fatto tappa all'ipercop di Gravellona Tocci e farà tappa anche nelle prossime settimane in diversi luoghi, soprattutto di divertimento della nostra provincia. La finalità del progetto qual è, dottoressa? La finalità del progetto è permettere alle persone che accedono alla postazione di sperimentarsi alla guida attraverso il simulatore e misurare la loro alcolemia in modo da capire sulla propria pelle che cosa succede quando si guida dopo aver bevuto. Avete tarato anche degli occhialini con il diverso grado di alcolemia ed è davvero particolare perché fare il percorso seguendo la riga, uno pensa di seguire la riga, poi si trova invece a un metodo alla riga. Sì, gli occhiali alcolemici sono una novità di quest'anno perché il progetto c'è dal 2005. Questi occhiali appunto sono tarati su 0,8 o 1,5 e quando una persona li indossa è come se avesse bevuto e avesse un'alcolemia di quel livello 0,8 o 1,5 e quindi io ho provato anche io sulla mia persona sia proprio la sensazione dell'obnobbilamento, dello sdoppiamento del campo visivo e la difficoltà a compiere movimenti fini, a concentrarsi sulla presa di un oggetto per esempio. Sono importanti a mio avviso queste piccole cose che si vivono un po' come un gioco perché ci consentono di far sì che le persone capiscano che cosa significa muoversi, guidare, parlare, stare con le persone da alterati. Non usiamo il termine ubriaco perché quando una persona è ubriaca è visibilmente anche da parte degli altri alterata ma già con alcolemia di 0,8 nessuno si percepisce ubriaco, però già ci sono tutte queste alterazioni. La reazione soprattutto magari dei più giovani dopo aver approvato gli occhiali e il simulatore di guida? Devo dire che i più giovani sono i più curiosi e sono coloro che più si preoccupano della loro patente e quindi diciamo che è un buon terreno per fare sensibilizzazione, informazione e sensibilizzazione. Poi lavoriamo anche con le scuole, quindi diciamo che la popolazione della nostra provincia, la popolazione giovanile della provincia ha perlomeno due possibilità di incontro e di riflessione su questi temi, uno nella scuola in un contesto quindi educativo, informativo e in questo contesto del divertimento. Quali saranno le prossime tappe? Abbiamo letto che oggi si chiude all'Ipercop. Allora, saranno 12 tappe da giugno a settembre distribuite sui tre poli della provincia, presso le discoteche, presso le piazze, presso le feste della nostra provincia, sia da Cannobbio, Domodossola o Megna. L'importante è che questo è un progetto di prevenzione e non di repressione, bisogna sempre dirlo. Assolutamente sì. Noi quando offriamo alle persone la sperimentazione di questi test e poi facciamo un breve counsel, cioè una chiacchierata, utilizzando la loro esperienza di quel momento, le loro condizioni psicofisiche di quel momento e quelle che sono le informazioni scientifiche. E quindi per incrociare le cose e favorire la responsabilizzazione delle persone. Direttore, cosa significa per il centro commerciale aver ospedito quattro tappe di questo progetto? Per il centro commerciale è molto importante perché non siamo qua solo per vendere, per fare commercio, che peraltro è un'attività importante, ma anche per essere vicino alla gente e lanciare dei messaggi positivi. Siamo un luogo dove l'aggregazione giovanile è molto presente, viene spontanea e quindi ci sembrava giusto lanciare questo messaggio positivo ai ragazzi di un problema che è oggettivo e quindi non si può nascondere. La risposta da parte dei ragazzi, da parte della clientela a questa iniziativa? La risposta è molto positiva, anche se i ragazzi tendono ad essere un po' pigri, hanno un po' di ritrosie, un po' di paura ad avvicinarsi perché sanno spesso di essere intorto. Però l'importante è lanciare i messaggi che poi pian pianino cresce tutto, ogni piantina cresce. Adesso non ci resta che provare, questo è il tasso alcolemico zero, quindi vediamo i tempi di reazione, stiamo accelerando, stop, freniamo al volo e abbiamo visto il segnale di stop. I tempi di reazione sono stati buoni, mi dicono. Sono un po' alti, è perché stavo parlando al microfono per quello. Quella del 23 maggio è la giornata mondiale della tiroide, promossa dalle principali associazioni scientifiche europee e mondiali che si occupano di questa ghiandola. Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare sui crescenti problemi legati alle malattie della tiroide e sul loro impatto sulla salute della donna e sulla gravidanza, con particolare riguardo all'azione preventiva della iodoprofilassi. Il tema conduttore di quest'anno, infatti, è la tiroide e donna, la tiroide e la gravidanza. Anche l'Asla VCO aderisce alle giornate con un incontro informativo aperto a tutti, curato dal direttore della struttura malattie metaboliche e diabetologia della nostra azienda sanitaria, dottor Giuseppe Saglietti, in programma venerdì 25 maggio alle 21, presso la sede dell'Asla VCO in via Mazzini, Aumegna. Verrà anche distribuita una brochure informativa insieme a un questionario finalizzato a raccogliere una breve anamnesi sulla possibile presenza di malattie tiroidee nelle donne intervistate e, soprattutto, ricavare elementi sullo stato di conoscenza delle tematiche legate alla diffusione delle principali patologie tiroidee nella donna. Nell'Asla del VCO sono più di 3.500 i pazienti affetti da malattie della tiroide seguiti presso gli ambulatori di endocrinologia di Verbania e Domodossola. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslavco.it oppure scrivere a vivereinsalute-aslavco.it indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.